Il terzo settore è inserito in questo convegno dedicato ai dati di Polos ma soprattutto per parlare di turismo? Sì, il terzo settore perché è necessario integrare tutte le attività della città e del comune di Crotone, della sua provincia perché soltanto integrando il mondo del sociale, il mondo economico e anche il mondo della pubblica amministrazione riusciremo a dare risposte soddisfacenti in un territorio che è stato abbandonato dalle realtà centrali. Questo significa che il terzo settore guarda anche alla ripresa pensando un po' all'inserimento di persone nel mondo del lavoro? Il mondo del lavoro è fondamentale, è necessario dar da lavorare a più persone possibili per far questo è necessario capire in quale settore investire il turismo sicuramente è uno di questi e quindi il terzo settore lavorerà insieme a tutti gli altri comparti al secondo settore, al mondo dell'economia, del commercio e appunto quello istituzionale per far sì che possa svilupparsi e quindi dare da lavoro a tantissima gente a patto però che si indichi e si individui la strada della professionalizzazione. Mi riferisco al turismo pensando che noi abbiamo mare e montagna vicini quindi potrebbe essere questo anche un attrattore per ripartire nella giusta maniera? Assolutamente sì, bisogna individuare pacchetti turistici reali che possono interessare non soltanto i turisti italiani ma anche quelli stranieri. Noi abbiamo delle particolarità appunto avere il mare e la montagna a pochissimi chilometri di distanza se riusciremo a costruire le strutture e le infrastrutture necessarie potremo essere uno degli attrattori turistici più importanti della Calabria. Qual è il progetto del terzo settore? È quello di costruire una comunità coesa, di costruire fiducia, di costruire legame sociale perché soltanto attraverso questo riusciamo a costruire economia e lavoro nella nostra realtà.